Siamo al mio 10esimo partimento Rominato adesso! Mi sono rovinato! Siete cosa? Sì? Perfetto! Ma cosa stai facendo? Mamma donna copritevi! Ma cosa state facendo? Ma cosa stai facendo? No. No ma ci conosciання! No, ma cosa stai facendo? Si non questo,ّ ecco? Ohuno? Non sono risaudioIo? ahahah ahah dottor mette a 2 2 2 ahah 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 Cosa hai stato facendo? Cosa ti fai in questa nuova? Vagli da un'esercizio! Ma cosa le donne non devono portare le armi? Non sanno capaci! Va il colonnello! Porta il disegno! Non ci ho provato mai successo di tutto! Due volte! Non la valli! Non la valli! Stivo, basta! Hai il tuo lavoro! Non si fa bene! E' tornata! E' tornata! E' tornata! Un bel applauso! La compagnie...